Hola soci, allora, benvenuti alla seconda puntata del mio format di speech e riflessione chi ha fatto la zanzale, guarda, guarda su IGTV, sul mio canale Instagram TV abbiamo parlato di libertà, abbiamo esordito con una cosa semplice proprio però io ho semplicemente lanciato una serie di suggestioni sul tema della libertà in realtà in otto minuti ovviamente non si può sicuramente sviscerare una tematica su cui la gente sta dibattendo da millenni però ci fa piacere pensare comunque che stiamo portando avanti un po' una conversazione in questo senso allora ho pensato che poteva essere carino siccome sono arrivati un bel po' di commenti anche molto interessanti alcuni a sostegno di quella che poteva essere una mia tesi anche se io in realtà non è che avessi proposto proprio una tesi altri invece con altri spunti e differenti punti di vista io volevo passare un attimo in rassegno alcuni di questi commenti e aggiungere qualche altro spunto di riflessione nato anche dalle conversazioni che ci sono state anche in privato via messaggio privato su Instagram cosa che in realtà io vi pregherei di evitare di fare in futuro preferirei che qualsiasi cosa vi capiti di pensare sulle tematiche che propongo le metteste nei commenti in modo che veramente tutti possano leggere ed eventualmente se ho tempo e modo di dare le risposte le do direttamente là quindi la premessa era che era la domanda se l'uomo sia effettivamente più libero quando si trovi in una situazione virtuale di assenza di limiti assenza di confini oppure se i confini e i limiti stessi siano una condizione sine qua non per potersi esprimere liberamente per poter esistere liberamente quindi manifestare la propria libertà io sono abbastanza della seconda opinione diciamo che tra i commenti vorrei subito blastare ma non per cattiveria ma perché vorrei eliminare dalla discussione le soluzioni facili quindi magari le definizioni cliché che capitano per forza in questo caso ne sono capitate pochissime però le sottolineiamo solo per dire ad esempio le frasi tipo la mia libertà finisce dove inizia la libertà altrui oppure non c'è schiavo più grande dell'uomo che pensa di essere libero che in questo caso è stata attribuita a Marrakesh nel senso che Marra l'ha usata in un pezzo ma non è evidentemente sua è una fase precedente di non so chi questi cliché nonostante vadano benissimo e siano molto comodi e utili per essere utilizzati nello breve spazio di un pezzo rap ovviamente in una discussione realistica con un minimo di finalità di evoluzione eccetera lasciano moltissimo il tempo che trovano innanzitutto perché fanno parte del mondo dei meme eccetera di queste forme di saggezza ridotta all'osso che io proprio detesto mortalmente li brucierei i meme con le frasi e l'ho detto più volte in più pezzi quindi non siete stupidi di questa cosa la mia libertà finisce dove inizia la libertà altrui diciamo che è una cosa che va vagamente a che fare con la questione delle leggi con la questione del rispetto del prossimo eccetera eccetera chiaramente parla solo di libertà in termini di azione e quindi espansione da sé verso l'esterno e quindi eventualmente invasione dello spazio vitale degli altri quindi io sono libero di correre fino a che non entro nella proprietà di un altro sono libero di dare un bacio in bocca a tutte le persone che conosco fino a che non trovo quella a cui dà fastidio cose di questo tipo stiamo parlando di un mondo veramente le cui variabili sono talmente infinite e relative che è inutile proprio discuterne per esempio dico io sono libero io di andare in giro nudo perché voglio di andare in giro nudo in alcuni paesi sì in alcune spiagge sì in alcuni mondi morali non lo sono ma allora che cos'è la pudicizia cosa significa nascondere le proprie grazie entriamo in un ambito che non ha nessuna fine e neanche nessun senso ai fini della conversazione sulla libertà l'altra è che invece non c'è schiavo più grande dell'uomo che pensa di essere libero anche questa è una cosa estremamente contorta schiavo di chi? schiavo di se stesso se un uomo pensa di essere libero e in realtà quindi questa frasina implica che nessun uomo è libero e quindi nessun uomo può ammettere di essere può pensare di essere libero o dirlo perché altrimenti si sta autodefinendo uno schiavo anche qui è estremamente vaga è estremamente imprecisa quindi eliminiamo da questo tipo di conversazioni i cliché che non ci servono andiamo a dare un occhiano invece a qualche commento che non è male ad esempio una buona sintesi è questa in pratica la libertà sta nel modo di agire di fronte ai propri limiti infatti i limiti ci sono ma questi non escludono la possibilità di scegliere se e come affrontarli e magari anche superarli ecco questa già è un'ottima sintesi della questione poi ci sono le risposte a questo commento la libertà è la consapevolezza di se stessi anche questa è molto vaga come cosa sì, chiaramente quando un uomo è consapevole di se stesso è anche consapevole dei propri limiti ed è quindi libero di agire all'interno di questi limiti questo è anche interessante perché pone proprio il dovere quando ci sono dei limiti allora sono in dovere di sentirmi libero di esprimermi a riguardo se ci fosse solo la libertà non ci sarebbero limiti di superare esattamente quello che ho dato come assunto iniziale nello speech precedente con l'esempio di Baricco se questo piano è forte avesse infiniti tasti io non mi sederei neanche a suonarlo cioè la libertà assoluta in realtà non consente la manifestazione della libertà diciamo non la libertà assoluta ma l'opportunità infinita di fare qualsiasi cosa non consente di manifestare la propria libertà questo ha fatto 900 a teatro quindi è rimasto molto colpito e dice cose interessanti oltre che da un punto di vista umano artistico si possono riscontrare questi concetti anche nella psicologia di base in molti casi gli sfoghi di rabbia, depressione, delusione verso se stessi nei ragazzi della mia età sono dovuti a buone, ottimo, eccellenti capacità o talenti ma più che non trovano uno sfogo effettivo vengono espresse in forme esplosive e spesso non connesse se prendi il treno migliore del mondo ma non gli dai i binari resterà lì fermo a rovinarsi questa è un'ottima riflessione vai a un punto a cui io sarei voluto arrivare forse anche più avanti in questi speech che accenno ma il senso è proprio questo cioè se la libertà è una delle condizioni per un'esistenza soddisfacente allora è chiaro che anche il fatto di avere un obiettivo dei binari di avere una direzione verso cui muoversi scelta liberamente tra le infinite opzioni che abbiamo di fronte è una chiara manifestazione della propria libertà e dà significato alla propria esistenza ma questo lo vedremo più esaustivamente più avanti questo di Andrea Di Salvatore secondo me il punto è che la libertà viene scambiata per libertinaggio non avere limiti è giusto se a dettare i da farsi sono i valori il vero problema è la mancanza di valori eccetera eccetera qui però c'è una cosa molto interessante è molto valido l'intervento di Andrea Di Salvatore mi vorrei soffermare su questa cosa perché è una cosa che ricorsa poi in altri commenti anche privati che mi sono arrivati o ad altre piccole cose e cioè questo è importantissimo fare una distinzione fondamentale tra la libertà e il libertinaggio come lo chiama lui e cioè un conto è la libertà la manifestazione nell'atto pratico verbale, fisico, creativo, fattivo eccetera eccetera imprenditoriale della propria libertà quindi l'esercizio della libertà un conto è esistere in una condizione di libertà intesa come libertinaggio intesa come faccio quello che cazzo mi pare faccio quello che cazzo mi pare soprattutto nella fase adolescenziale viene scambiato per libertà erroneamente mentre invece altro non è che è l'assenza di responsabilità e l'assenza di aspettativa sia da parte degli altri verso l'individuo sia da parte dell'individuo verso se stesso quindi il fatto di dire io posso permettermi di sprecare soldi posso permettermi di buttare il tempo facendo cose stupide sono libero di essere superficiale essere leggero essere privo di senso privo di direzione eccetera eccetera quella non è appunto libertà ma è non è esercizio della libertà ma è libertinaggio è vaghezza l'assenza di responsabilità in questo senso va proprio in antitesi con quello che abbiamo detto prima cioè col fatto di avere dei binari avere dei binari e quindi un obiettivo da raggiungere attraverso degli step attraverso un percorso iterativo ci dà significato a noi alle nostre esistenze eccetera eccetera l'assenza di questo obiettivo e quindi la totale assenza di responsabilità di aspettative anche da se stessi verso se stessi invece è pura vaghezza è senza significato e non è esercizio della libertà è una condizione di esistenza vaga che non ha neanche un significato quindi ho molta attenzione parlo soprattutto ai più giovani quando si rifanno a modelli qui magari parlo entro anche un pochino in quella che è la dinamica di comunicazione di certe forme d'arte come anche la musica come anche il rap fate molta attenzione quando incappate in personaggi che come posso dire esaltano quelle fasi dell'esistenza le fasi dell'esistenza libertine le fasi dell'esistenza del divertimento puro del sta senza pensiere del cazzeggio eccetera eccetera non perché il cazzeggio non sia importante il cazzeggio è una cosa importantissima avere dei momenti nella vita in cui si fanno cose molto stupide senza responsabilità eccetera eccetera è una cosa importantissima ma i personaggi che esaltano quella parte lì dell'esistenza e solo quella in un certo senso possono essere considerati innocui perché comunque si rivolgono solo a quei momenti della vostra esistenza quindi sono cose che uno si sente quando va in macchina e sta andando in discoteca o sta uscendo con gli amici si sente nei momenti in cui si vuole divertire chiaro che tu non ti metti sotto un pezzo che cazzo ne so di reggaeton che parla solo di bere ballare e scopare quando ti stai mettendo a studiare per dare un esame che invece è una delle cose della tua esistenza a cui dai più peso più rilevanza su cui senti una responsabilità eccetera occupa completamente un'altra fase che deve esistere assolutamente perché il defaticamento è assolutamente necessario come chi fa bodybuilding o chi fa palestra o qualsiasi tipo di attività fisica sa benissimo che allo sforzo deve corrispondere anche un defaticamento per far funzionare bene l'organismo quindi non sto dicendo che quelle cose non devono esistere o che fanno male a prescindere ma che l'assoluta esaltazione durante tutta una carriera solo di quel mondo valoriale lì può essere pericolosa e soprattutto è un po' strana perché di fatto invece le persone che gli artisti che si occupano solo di quella parte lì in realtà lo fanno con grandissima disciplina e responsabilità perché è la loro carriera quindi lo fanno e non possono permettersi loro di essere vaghi allegri superficiali e senza responsabilità lo fanno con un calendario con un'agenda rispettando delle tabelle eccetera eccetera quindi c'è un contrasto interno tra la natura del prodotto che esce e come questo prodotto è stato realizzato tenderei diciamo tra virgolette io come persona quello che faccio io come ascoltatore è che tendo ad affidarmi molto di più ad artisti che attraverso le loro opere stesse mi dimostrano qual è l'equilibrio che stanno vivendo e quindi mi propongono una tabella di marcia molto più verosimile tra impegno disciplina responsabilità e divertimento non a quelli che fanno solo quella cosa lì perché diventa paradossale ce ne sono tanti di commenti molto belli alcuni sono nei commenti del video stesso a cui non posso accedere perché sto usando il cellulare per cui in questo momento li salto poi le prossime volte magari me li scrivo su carta a questo punto vado a fare un elenco delle mie riflessioni che sono nate da tutta questa conversazione che abbiamo avuto fatta la premessa e partiamo da un presupposto ancestrale archetipico ovvero quello di Dio quello della creazione stessa parlo di Dio non mi riferisco ad altre religioni semplicemente perché è quella che conosciamo e mastichiamo meglio e non parlo di Dio nel senso religioso nel senso non ne parlo da credente ne parlo diciamo come se facciamo finta che ma in realtà il valore che sto dando ai concetti espressi in termini religiosi in termini biblici eccetera è un valore che ha a che fare col mondo della saggezza archetipica dell'essere umano quindi che succede Dio secondo la Genesi crea perché esausto dell'assenza di creazione cioè Dio è nell'infinito del suo essere ma questo infinito del suo essere corrisponde automaticamente anche al nulla cioè alla non esistenza quindi per assurdo parliamo proprio di questo l'assoluta libertà diventa insopportabile per Dio stesso perché non trova manifestazione della propria onnipotenza della propria possibilità di creare quindi non stiamo parlando di Dio del Signore con la barba che sta in un mondo tutto bianco tipo Matrix in cui non c'è un cazzo e si rompe le palle stiamo parlando dell'uomo che parla della propria saggezza interiore e dice io quando mi trovo nella assoluta libertà di fare qualsiasi cosa mi rompo il cazzo e devo farne una se no non sto non sto esercitando la mia libertà e la mia potenza creativa che viene trasfigurata metaforicamente nella onnipotenza di Dio e che cosa fa Dio quando crea crea qualche cosa di mostruosamente limitato come l'essere umano come il mondo materiale quadridimensionale che conosciamo punto linea profondità tempo tempo inteso in senso lineare ovviamente ci fermiamo lì perché le altre non le conosciamo ancora anche se iniziamo a vedere le idee ma crea qualche cosa di estremamente limitato che si deve confrontare con un contesto potenzialmente limitato come ad esempio l'universo o il resto della conoscenza delle cose a cui percettivamente non riesce ad arrivare tutto ciò che noi non sappiamo che stiamo continuando a scoprire ma ancora non sappiamo quindi è Dio stesso che afferma che l'unico modo per esercitare la propria libertà è costringersi in dei confini molto precisi e molto limitati questo riprende il discorso di quello che è fatto nello speech precedente in cui facendo l'esempio molto più specifico della musica rap quello che sostenevo è nel momento in cui tu è molto stupido dire io sono libero quando scrivo o la condizione essenziale per scrivere bene per esprimersi è essere liberi perché questa libertà non esiste non esiste nel momento in cui io inizio a scrivere nel caso specifico parliamo di rap io decido che devo scrivere in rima sui quattro quarti su una tematica su una base parto con delle premesse che sono già un tot di limitazioni in più ci metto sopra quello che deve essere il mio personaggio il mio look eccetera eccetera quindi non esiste non sentirete di tutti gli artisti che dicono io sono libero quando scrivo non mi pongo nessun limite questa cosa è falsa nelle premesse perché i limiti sono già insiti nel metodo stesso nella forma stessa di espressione che si è decisa ma in più ogni artista sicuramente non scrive un pezzo di otto minuti su quando sta sfogliando una rivista sul cesso seleziona una serie di momenti della sua esistenza o di momenti narrativi che immagina eccetera eccetera al fine di emanare dei messaggi molto precisi di raccontare delle cose e costruire un sistema valoriale che lo possa rappresentare per il suo pubblico quindi questa cosa è proprio una cazzata eliminatela dal vostro vocabolario l'artista si esprime veramente solo quando è libero non è una cazzata l'artista è libero perché si esprime all'interno di una serie di confini alcuni già dati dalla forma stessa alcuni autoimposti torniamo all'ancestralità all'archetipicità perché voglio fare altri esempi una fu che riguardano proprio il senso dell'esistenza io sono convinto che una delle matrici dell'esistenza stessa sia la nostra capacità di intrattenerci e che l'espressione della nostra libertà abbia molto a che fare con il divertimento dell'espressione e con il divertimento del problem solving che è stato un problema che è un termine che ha creato anche alcuni problemi in alcune conversazioni ovvero la maggior parte di voi noi eccetera fa dei giochi sport videogames parole crociate app sul cellulare eccetera eccetera perché facciamo dei giochi quando abbiamo del tempo libero per intrattenerci si dice per perdere tempo la trovo molto sbagliata come espressione ma comunque diciamo che è così che cosa accade realmente in questi giochi che noi scegliamo delle applicazioni dei sistemi eccetera eccetera un campo in cui ci sono delle regole molto precise molto strette non toccare la palla con le mani mettere la palla nel cesto costruire entrare quel pezzetto di mattoncino in quel luogo per creare quella forma indovinare la parola giusta che va a incastrarsi con le altre un'infinita serie di regole e purtroppo dobbiamo ammettere che non c'è nulla che ci dia soddisfazione quanto avere successo nella risoluzione di quei micro problemi che da soli noi ci costringiamo a risolvere quindi è chiaro che in questo meccanismo ci sia una fonte di piacere incredibile quindi una produzione di serotonina una produzione proprio di soddisfazione che viene proprio da una reazione chimica del cervello al momento della risoluzione del problema ed è chiarissimo che a un gesto atletico quindi a un'azione molto corretta fatta in modo molto spontaneo estemporaneo corrisponde a una maggiore soddisfazione cioè il gol in rovesciata quando la palla è rimbalzata in un modo che nessuno si aspettava è una cosa che ha una soddisfazione incredibile nonostante fosse sia successa in un ambito regolato da un'infinita quantità di regole che limitava il mio comportamento in modo esponenziale quella sensazione che proviamo è una sensazione di grande liberazione cioè all'interno di quel sistema di regole io ho espresso manifestato me stesso mi sono realizzato in un qualche modo altro esempio i bambini se tu metti a giocare dei bambini di 4-5 anni insieme nella sabbiera con dei giochini eccetera eccetera li lasci per un po' di tempo questa è una cosa che è stata studiata molto chiaramente sia da neuroscienziali che da antropologi che da sociologi eccetera ci mettono boh che ne so mezz'oretta per stabilire un sistema di regole entro cui giocare la cosa interessante e questo forse poi è un discorso che riprenderemo è che a seconda della fascia d'età queste regole sono implicite e non dette perché non c'è la possibilità verbale di articolare le regole poi da una certa età in poi tra gli 8 e i 12 anni per esempio i bambini iniziano a poter dire come funzionano le regole di quel gioco e poi si va avanti fino all'età adulta in cui c'è addirittura l'orgoglio della creazione del sistema di regole inizia la sindrome di Dio però anche quando sono piccolissimi e non riescono a dire come funzionano le regole loro tra di loro le capiscono perfettamente capiscono chi deve fare cosa chi è capo chi è so se c'è una gerarchia qual è la funzione degli oggetti eccetera eccetera quindi nonostante siano apparentemente o per definizione le persone più libere in quel momento assolte da qualsiasi tipo di responsabilità di aspettativa il comportamento naturale dei bambini messi in gruppo messi in società è di trovare un sistema di regole perché solo all'interno di quel sistema si divertono e trovano realizzazione della propria personalità trovano legittimazione della propria esistenza questo ovviamente porta poi col tempo nello sviluppo della società ad esempio alla creazione delle leggi le leggi proprio intese come le leggi dello Stato con un apparato di polizia che serve a far aiutare a preservare quelle leggi eccetera eccetera è un'espansione di quell'idea di gioco con le regole e questo non significa che noi non siamo liberi di trasgredire perché sia da bambini che da grandi noi siamo liberissimi di trasgredire le regole che collettivamente abbiamo scelto qual è il punto? che le regole che abbiamo scelto collettivamente le abbiamo scelte per garantire a tutti la possibilità di reiterare il gioco cioè di continuare a vivere di continuare a operare in un certo tipo di equilibrio questa cosa è stata notata nei bambini cioè che il sistema di regole che i bambini creano è perfetto è atto a riprodurre il gioco in continuazione cioè a fare in modo che il gioco possa non terminare o riproporsi continuativamente ha proprio questa caratteristica alla base la legge cioè il fatto di non uccidersi ha più o meno la stessa funzione cioè a dire come comunità troviamo un sistema di regole che ci permette di continuare ad esistere continuare ad operare insieme a realizzare cose a manifestare la nostra libertà di espressione la nostra personalità eccetera in tutto ciò chiunque è sempre libero di trasgredire queste regole cioè il fatto che le regole esistano non limita assolutamente nessuno dal fatto di poter andare contro queste regole che sono state scelte collettivamente salvo poi accollarsi la responsabilità o le conseguenze dell'avere trasgredito le regole le regole non sono state imposte da nessun ente esterno sono delle persone tra le persone per le persone il che significa che se noi insieme abbiamo più o meno deciso nel corso dei secoli che questo è il sistema di regole in cui vogliamo esistere tu che trasgredisci vieni contro tutti noi che invece le abbiamo decise insieme più o meno consapevolmente quindi ti devi accollare o di andare in galera o di scappare tutta la vita se te lo vuoi accollare non c'è nessun problema nessuno ti impedisce di pagare le conseguenze delle tue scelte libere quindi più o meno il senso di tutti questi spunti di questo elenco di cose è cercare di dimostrarvi almeno solo verbalmente che la condizione dell'esistenza in un ambito di regole non è in alcun modo privazione di libertà ma al contrario l'esistenza delle regole è necessaria per poter affermare per poter esercitare la propria libertà perché per definizione se non ci fossero delle regole io non potrei esercitare nulla non starebbe accadendo nulla siamo arrivati a questo punto a 26 minuti ho fatto una puntata di mezz'ora però valeva la pena prossima puntata non so mi hanno suggerito il tema della felicità e pure lì è una rata roba bella complessa io voglio provare a portare avanti queste riflessioni anche lunghe ma vorrei farmi notare che sta accadendo un po' in vari punti del mondo che delle riflessioni così complesse o questa forma comunque espressiva dei long form che possono essere fatte solo sui GTV o su Youtube al limite su Facebook stanno prendendo molto piede perché in effetti la gente si sta un po' rompendo le palle sia dei contenuti brevissimi nonostante ci sia diffuso questo dato oramai considerato valido per cui la gente ha una spana di attenzione brevissima e non riesce a sopportare più di 12 secondi di un argomento in realtà questa cosa è falsa c'è tanta gente nel mondo che sta cercando contenuti molto più lunghi e molto più complessi soprattutto perché iniziano a esserci tante persone stufe della sintesi narrativa della televisione dell'assoluta mancanza di significato di moltissimi contenuti su web eccetera quindi vorrei provare un po' a scommettere su questa lunghezza su questa complessità vorrei provare poi in futuro anche ad avere l'ho già detto degli ospiti con cui interagire direttamente e magari anche fare delle dirette in modo che da poter leggere non dover fare questo ritorno leggo i commenti e poi rispondo eccetera anche se non è malissimo come cosa come cosa se la cosa vi piace ovviamente lo sapete già mi dovete fare voi da ufficio stampa dovete pomparla farla vedere a tutti coinvolgere qualsiasi amico che sapete possa avere un minimo di interesse a ragionare sulle cose potete usare questi miei video come strumenti per alimentare le vostre conversazioni interne tra di voi tra gli amici nella famiglia eccetera cioè usiamo queste cose come un tool figo per ragionare in modo interessante io sapete che faccio anche pezzi molto leggeri mi occupo anche di cose molto stupide e molto leggere perché amo le cose leggere amo la comicità amo il cazzeggio ma sicuramente non sicuramente preferisco aumentare la dose la dose di significatività almeno nella mia opera semplicemente perché mi pare che nel mondo le cose siano un po' sbilanciate detto ciò vi saluto vi mando un bacio bella soci dai così